Noi, la famiglia in particolare, non abbiamo mai parlato di tracce di sangue nell'auto. Abbiamo fatto presente che ci sono delle tracce nell'auto di Alex che vanno esaminate. Poi, se sarà sangue o altra sostanza, lo vedremo. Ancora una volta l'ultima parola aspetterà la scienza. D'altronde la volontà dei familiari di Alex Marangona resta quella di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane scomparso nella notte del 30 giugno scorso dall'Abbazia di Vidora nel corso di un rito sciamanico e ritrovato morto due giorni dopo su un isolotto a Ciano del Montello. Proprio i genitori hanno notato quelle strane macchie nell'auto, in particolare sul freno a mano, da qui la richiesta di analisi con i carabinieri del reparto scientifico di Treviso che hanno effettuato quello che in gergo tecnico si chiama tampone. Quello è stato fatto, certamente, adesso verranno analizzati. Ci aspettiamo, evidentemente, un'analisi con, ritengo, con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile o comunque valuterà poi la procura come farlo, però ancora non si sa che tipo di sostanza sia. Abbiamo chiesto di verificarne la natura, tutto qui. Si tratta dell'ultimo approfondimento chiesto in ordine di tempo dalla famiglia che nelle settimane scorse aveva indicato anche lo strumento del test sul capello tra i partecipanti al rito e questo in attesa della risponso degli esami tossicologici effettuati sul corpo dello stesso Alex. Sullo sfondo ci sono poi le parole dei due curanderos che, attraverso un memoriale scritto, stanno redigendo la loro versione attraverso l'avvocato Oscar Pales Sant'Andreu. Ipotesi dell'omicidio senza senso aveva detto il legale dei due sciamani ai nostri microfoni. Alex si è allontanato da solo. Non vorrei entrare nel merito perché poi tutto questo tipo di confronto credo che non vada affatto sui giornali o sui media ma vada affatto poi nelle sedi più opportune. Comunque prendiamo atto di quello che dicono e andiamo avanti.